Nell'animo dell'amministrazione comunale c'è quella di creare una sorta di città in cui siano proprio i bambini protagonisti scrittori. Sì, abbiamo messo nel nostro programma elettorale la ideazione e costituzione di un festival della letteratura dedicato all'infanzia e alla prima adolescenza, affinché Teramo possa diventare una città in cui si presenti un progetto pilota per incentivare la lettura sin da piccoli, come avviene un po' a Giffoni per il cinema, per i ragazzi. Questa è una bella iniziativa che probabilmente richiederà anche molto tempo per poterla mettere in pratica. Ci state lavorando? Sì, sicuramente ci sono adesso delle priorità amministrative urgenti e impellenti, però abbiamo già cominciato a programmarla e chiederemo l'aiuto e il sostegno anche delle associazioni che si occupano di infanzia, associazioni che hanno ideato laboratori come per esempio Teramo Child, ma ce ne sono tante altre che verranno chiamate, faremo un tavolo in cui si comincerà a pensare alle modalità di realizzazione. È un progetto a cui questa giunta, anche l'assessore Ponziani, ma tutti gli altri, il sindaco d'Alberto Imprimis e tutta la giunta, tiene in modo particolare. Insomma, Teramo potrebbe distinguersi in tutto il paese per questa iniziativa. Sarebbe la prima città italiana a mettere in atto un festival del genere? Devo dire che il festival della letteratura di Mantova si sta prendendo anche alla letteratura per l'infanzia, ma non è un festival dedicato. Quindi sì, Teramo potrebbe diventare la città in cui c'è un festival dedicato esclusivamente alla lettura per quella fascia di età.